ben trovati amici del web nel corso dei mesi precedenti ho ricevuto un inatteso quantitativo di richieste e sollecitazioni in merito al preannunciato proseguimento della nostra serie su stress e salute con la parte dedicata alla gestione dello stress e confesso di essere un po' interdetto perché ho capito che in genere si tende ad appiccicare a noi nutrizionisti un po' il ruolo di health coach in generale e io sono il primo a sottolineare sempre l'importanza per il nostro benessere non solo della dieta ma di tutto lo stile di vita in generale quindi anche attività fisica sonno gestione dello stress psicologia positiva eccetera però insomma non è il nucleo del nostro mestiere e della nostra preparazione per cui siccome l'argomento è talmente vasto che richiederebbe un canale interamente dedicato solo a quello temo che dovrò un po' deludere le aspettative però visto l'entusiasmo che suscita l'argomento e che la dice lunga ahimè su quanto sia grave e diffusa la percezione di essere stressati e quanto ampio sia il bisogno percepito da molte persone di fare qualcosa al riguardo ebbene dicevo considerato tutto questo ho perlomeno rivisto il mio proposito iniziale di esaurirlo in un solo video e ho sviluppato invece il discorso in quattro puntate diverse in modo da offrire un panorama più ampio per potersi fare un'idea del quadro generale delle strategie a disposizione in modo che poi ciascuno possa trarne gli spunti per approfondire quello che desidera ma cominciamo col fare il punto di quello che abbiamo imparato nei video precedenti di cui trovate i link qui sotto in descrizione al video e di cui consiglio vivamente la visione prima di guardare la presentazione di oggi a chi fosse arrivato qui per caso innanzitutto abbiamo imparato che lo stress non è necessariamente una cosa negativa ci sono particolari situazioni come gli stress fisici acuti o alcuni stress cronici che hanno sempre accompagnato il genere umano come l'alternanza tra periodi di abbondanza e scarsità di cibo per i quali il nostro organismo ha sviluppato delle risposte adattative tali per cui riusciamo a far fronte a questi stress e in molti casi a trarne persino dei vantaggi come ad esempio una sferazzata per il sistema immunitario ci sono invece altri stress di introduzione molto più recente principalmente di natura emotiva ma non solo che sono principalmente legati al nostro stile di vita occidentale post industriale continue preoccupazioni di lavoro di famiglia di denaro ritmi di vita alienanti comportamenti innaturali come passare la maggior parte del tempo al chiuso e poi rumori inquinamento traffico eccetera per questi stress purtroppo il nostro organismo non è preparato e quindi non abbiamo risposte adattative ci causano solo effetti nefasti le cui risposte fisiologiche abbiamo lungamente descritto nel video su stress salute e malattia in particolare lo stress cronico aumenta in modo statisticamente significativo il rischio delle sei principali cause di morte nei nostri paesi malattie cardiovascolari tumori malattie respiratorie cirrosi epatica incidenti e suicidi abbiamo poi visto anche che a parità di stress l'impatto sulla salute individuale può essere molto diverso a seconda di come questo viene percepito interpretato e gestito per questo abbiamo introdotto la distinzione tra stress e distress per sottolineare che l'esposizione a eventi stressanti diventa negativa o meno sulla base di come noi percepiamo la situazione di come vi reagiamo essere licenziati è uno stress ma non tutti lo interpretano lo stesso modo per qualcuno addirittura potrebbe essere un sollievo per qualcun altro invece una situazione terribile e allora in questo caso siamo in presenza di uno stress negativo c'è un distress da tutto questo abbiamo tratto la conclusione che il problema dello stress è duplice non è solo l'esposizione ma anche e soprattutto la sua gestione e dunque duplice il problema duplice la soluzione da un lato ridurre il più possibile le fonti di stress a cui siamo esposti e soprattutto quelle più insidiose ci sono un sacco di stress a cui ci esponiamo inutilmente ma non ce ne rendiamo conto fino a quando continuiamo a lasciarci travolgere senza riflettere dai ritmi dai modi e dai valori assurdi a cui sembra volerci costringere la società occidentale post industrializzata solo chi riesce a prendere un po di distacco si rende conto della totale assurdità di sacrificare in questo modo la nostra esistenza dall'altro lato però per quanta buona volontà ci mettiamo non potremo mai azzerare gli stress fisici ed emotivi a cui siamo esposti ed evitare ogni preoccupazione ogni litigio col partner ogni rogna di lavoro ogni problema di salute anche perché molti sono al di fuori del nostro controllo lo stress dunque una parte inevitabile della nostra esistenza e per un verso una cosa positiva nel senso che ci stimola e ci mantiene attivi se vi ricordate dal video su stress e tumori negli esperimenti di Seligman sui topolini quelli esposti a stress ma che avevano a disposizione l'interruttore per farlo smettere alla fine si ammalavano addirittura di meno dei topolini lasciati tranquilli senza mai essere esposti ad alcuno stress d'altra parte è fondamentale evitare che lo stress ci travolga e quindi imparare a non esserne sopraffatti perché se gli stress si accumulano a un livello tale da non riuscire ad essere gestiti ecco che cominciano ad arrivare quelle conseguenze nefaste e molto concrete di cui dicevamo prima e che mettono a repentaglio la nostra salute psichica e fisica e questa appunto è la seconda parte della sfida non evitare qualunque tipo di stress ma saperlo gestire e a questo scopo per fortuna abbiamo a disposizione una vasta gamma di strumenti di tecniche e di strategie per tenere sotto controllo lo stress e scongiurarne le conseguenze negative per la nostra salute ma quali sono concretamente questi strumenti allora le tecniche di gestione dello stress rientrano essenzialmente in cinque grandi categorie innanzitutto quelle che potremmo chiamare valvole di sfogo cioè che implicano un outlet uno sfogo sano e controllato dello stress poi quelle che inducono il rilassamento quindi non tanto non solo lo sfogo a valle dello stress ma anche e soprattutto lo spegnere a monte la sua stessa generazione poi quelle che implicano il controllo cioè la sensazione di essere in controllo nei confronti delle situazioni potenzialmente stressanti e quindi in definitiva più in controllo della propria vita poi quelle che implicano una ristrutturazione cognitiva cioè un cambiamento della prospettiva del punto di vista del modo di interpretare gli eventi e le situazioni stressanti e quindi di cambiare il significato che gli si attribuisce e quindi in definitiva fare in modo che ciò che prima avremmo vissuto come uno stress non lo sia più in futuro e infine quelle che implicano un supporto sociale sia a livello individuale che a livello di comunità notate anche che le prime due categorie hanno a che fare con la riduzione dello stress le due successive con la sua percezione quindi non tanto con la quantità di stress a cui siamo esposti ma col modo in cui viviamo e l'ultima infine con il supporto che ci consenta di gestirlo meglio ed è proprio a ciascuna di queste tre aree che dedicheremo i tre video successivi nei quali approfondiremo meglio tutte queste categorie di strumenti che ho elencato nel video di oggi invece diciamo qualcosa su dieta e integratori in relazione allo stress che rispetto agli argomenti su menzionati è sicuramente un aspetto meno urgente ma è più rilevante dal punto di vista di questo canale per cui è appropriato cominciare con quello quanto alla dieta non esiste ovviamente una dieta anti stress ma la dieta può metterci nelle condizioni di gestirlo meglio e questo ha più a che fare col fatto di avere una dieta equilibrata in generale varia e moderata anche per il feel good factor che ne deriva poi di consumare i pasti con regolarità e serenità mangiando con calma magari facendo dei pasti piacevoli momenti di convivialità dal punto di vista più tecnico l'attenzione andrà posta innanzitutto a non farsi mancare vitamine e minerali tanto per cominciare tutte le vitamine del gruppo b sono coinvolte nel sistema nervoso per cui indirettamente agiscono sull'ansia sull'equilibrio emozionale sulla fatica fisica per cui la mancanza di anche una sola di esse compromette la nostra capacità di rispondere bene e proteggerci dagli stress e specularmente durante le condizioni di stress sono consumate più velocemente per cui bisognerà assicurarsi di assumerle con gli alimenti per rimpiazzarle poi c'è il magnesio che agisce nella trasmissione nervosa ed è un calmante naturale riduce l'ansietà e migliora il sonno il calcio che agisce insieme al magnesio nel sistema nervoso ed aiuta ad essere calmi e sereni lo zinco che anche lui agisce come una sorta di antidepressivo naturale il selenio contro la fatica intensa ecco però per tutti questi minerali non vale in principio che se un po fa bene di più fa meglio per cui non serve prenderne a palate l'importante è assicurarsi che ne sia coperto il fabbisogno se mancano è un problema ma prenderne di più non serve a nulla poi fra le vitamine certamente anche la vitamina D ha funzioni importanti sul miglioramento dell'umore mentre la vitamina C è immunostimolante garantisce il buon funzionamento del sistema nervoso e tende a limitare la produzione di cortisolo che è l'ormone dello stress cronico per quanto riguarda cibi o bevande stimolanti tipo caffetta e guaranà la questione è molto individuale ad alcuni danno fastidio causano ansia nervosismo per cui in quel caso andranno ovviamente ridotti o se necessario addirittura eliminati ad altri no ma ostacolano il sonno per via della loro azione sul sistema nervoso e in questi casi in genere è sufficiente limitarne il consumo alla mattinata per altre persone invece servono come upper cioè stimolanti che aiutano a sentire meno la fatica essere più svegliattivi concentrati eccetera e in questo caso allora saranno consigliabili proprio contro lo stress all'opposto invece abbiamo dei cibi che hanno un potenziale effetto calmante sul sistema nervoso generalmente per il loro contenuto di magnesio di calcio o di bromo oppure per il loro contenuto di determinati amminoacidi come il triptofano che serve per la fabbricazione della serotonina ed è usato in particolare per conciliare il sonno oppure di tirosina precursore di vari ormoni neurotrasmettitori usati in particolare contro l'ansia ed entrambi questi amminoacidi hanno anche un effetto antidepressivo nel senso di migliorare l'umore sempre per via delle molecole di cui sono precursori citiamo per esempio le banane le albicocche il cavolo nero il tofu tutti i latticini e soprattutto lo yogurt gli anacardi l'orzo l'avena si tratta però di effetti che sono molto blandi perlomeno alle dosi che possono arrivare dagli alimenti come pure sono blandi gli effetti di quei piccoli peptidi che possono essere direttamente assorbiti nell'intestino mantenendo la loro funzione biologica e che sono associati a un effetto calmante come le casomorfine del latte oppure antidepressivo come alcuni composti presenti nel cacao come gli endocannabinoidi e la feniletilamina ecco forse consumare un quadretto di cioccolato amaro è proprio la strategia alimentare più universalmente riconosciuta come antistress perché da un lato è ricco di magnesio dall'altro è ricco di triptofano e dall'altro ancora contiene questi peptidi bioattivi ed effettivamente è stata ripetutamente dimostrata la sua capacità di migliorare l'umore per quanto io non sono così convinto che questo non dipenda soprattutto dal semplice appagamento che deriva dal mangiare qualcosa che ci piace se invece vogliamo andare su effetti biologici più significativi allora dobbiamo spostarci sulla fitoterapia e qui in relazione allo stress i rimedi ricadono principalmente in quattro categorie quelli definiti adattogeni cioè che aiutano ad aumentare la resistenza fisica e mentale dell'organismo in modo da fronteggiare meglio le situazioni stressanti aiutando a rimanere concentrati attivi e con una sensazione generale di energia e benessere quelli che aiutano il rilassamento ad esempio esercitando effetti calmanti tranquillanti ansiolitici oppure di sostegno al sonno quelli immunostimolanti cioè che aiutano a sostenere le difese immunitarie che sono le prime ad essere compromesse nelle situazioni stressanti e infine quelli che agiscono sull'umore agendo in genere come antidepressivi naturali tra gli adattogeni più studiati per i quali ci sono maggiori riscontri in letteratura scientifica troviamo ad esempio la radice di rhodiola che aumenta beta endorfine serotonina e dopamina ed è efficace contro nervosismo e tachicardia è ottimo sia direttamente l'infuso di radice oppure l'estratto secco da assumere in capsule o compresse poi abbiamo il ginseng altra pianta eminentemente tonificante in grado di aumentare la resistenza allo stress combattere la fatica aumentare i livelli di energia e stimolare l'impegno e la concentrazione per alcuni però risulta eccessivamente stimolante al punto da ostacolare persino il sonno e allora si possono trovare benefici analoghi nell'eleutero cocco detto anche ginseng siberiano ma i cui principi attivi sono completamente diversi dal ginseng e poi anche nella radice di angelica studiata soprattutto contro la fatica fisica tra gli oli essenziali poi con riconosciute proprietà anti stress abbiamo quello di ylang ylang che agisce come calmante cardiaco riduce la tensione e aumenta la concentrazione e quello di melaleuca il cosiddetto tea tree albero del tè anche se non c'entra nulla col tè che beviamo si possono mettere nel diffusore oppure qualche goccia sui vestiti o sulla pelle oppure assumere un paio di gosce per via orale ricordando sempre che gli oli essenziali non vanno mai assunti puri o in acqua ma sempre disciolti in un cucchiaino di olio nella categoria invece dei rilassanti abbiamo evidenze sperimentali per il biancospino che oltre alle sue più note attività a favore della salute cardiovascolare ipotensiva anti aritmica e vaso rilassante a livello delle coronarie agisce anche come efficace calmante a livello del sistema nervoso del biancospino è ottimo l'infuso di foglie e fiori oppure l'olio essenziale poi la lavanda che ha documentate proprietà sedative e ansiolitiche e di conciliare il sonno in uno studio tedesco l'ingestione di due gocce del suo olio essenziale ha avuto effetti comparabili a un'iniezione ivalium per indurre il sonno di nuovo si possono mettere alcune gocce di olio essenziale sul cuscino prima di dormire o sul petto sulle tempie o sul diffusore oppure se ne può avere un infuso di fiori freschi circa un cucchiaio a tazza o fiori secchi un cucchiaino a tazza e per i casi più urgenti assumere due gocce del suo olio essenziale sempre dopo averlo diluito in un cucchiaino di olio vegetale altri infusi che hanno proprietà calmanti oltre a biancospino e lavanda sono quelli di fiori di camomilla di tiglio ricordatevi sempre di raccoglierne qualche fiore tra maggio e giugno da essiccare e conservare per i vostri infusi di passiflora che contiene degli specifici alcaloidi calmanti della famiglia delle armaline e di melissa che è in grado di aumentare i livelli di acido gamma minobutirico a livello centrale e per i casi più difficili c'è la valeriana di cui si usa la radice ed è come noto potentissima come calmante e per aiutare a dormire contro l'ansia ha effetti comparabili a quelli delle benzodiazepine verificate sperimentalmente ormai moltissime volte ma con meno effetti collaterali e poi anche se meno noto ma ugualmente ben documentato aiuta a decontrarre i muscoli va però riservata solo i casi di necessità e non usata di routine per evitarne la stuefazione l'infuso si prepara con un cucchiaino da caffè di radice per tazza e facendo bollire per 10 minuti chi non apprezza l'amaro può ricorrere agli estratti venduti in fastiglie o in capsule per quanto riguarda gli immunostimolanti ne avevamo già parlato in un video un paio di anni fa dedicato a dieta integratori e difese immunitarie per cui non ci ripetiamo qui ma vi ricordo le chinacea la nigella la stragalus i funghi raishi del genere ganoderma e i prodotti dell'alveare polline pappareale e propoli per quanto riguarda infine l'ultima categoria la pianta per eccellenza i cui principi attivi sono in grado di agire sull'umore è l'iperico o erba di san giovanni la cui efficacia contro gli stati di depressione lieve o moderata è stata ripetutamente dimostrata e agisce principalmente mantenendo più alti livelli di serotonina e inibendo la ricaptazione anche di altri neurotrasmettitori a livello delle sinapsi con effetti comparabili a quelli di molti farmaci antidepressivi ma con il vantaggio di avere meno effetti collaterali ecco per carità era un elenco amichevole senza nessuna pretesa di completezza sicuramente sono stati pubblicati studi scientifici anche per molte altre piante ma queste sono in genere le più quotate quando si parla di stress di ciascuna poi ovviamente come sempre vanno valutate caso per caso i potenziali effetti collaterali e soprattutto eventuali interazioni con altri farmaci che si assumono ancora più importante però è ricordare il contesto perché quando ci focalizziamo sulle cose puntuali poi rischiamo sempre di perdere di vista la prospettiva generale che invece è ben più importante ecco ricordiamoci sempre che non è mai il singolo nutriente il singolo cibo la singola pianta che potranno fare davvero la differenza quasi fossero un farmaco contro lo stress che ne prende una pastiglia a posto questo sicuramente no sono tutte opzioni di un più largo ventaglio di approcci e strategie che lavorano insieme verso l'obiettivo generale che è la gestione dello stress ma che appunto come anticipavo prima possono solo darci un aiuto in più se affiancate a quelle strategie più profonde e sistemiche che abbiamo elencato prima e che saranno l'argomento dei successivi tre video di questa serie a partire dal prossimo dedicato alle strategie di riduzione dei livelli di stress attraverso lo sfogo e il rilassamento e poi passando all'estremo esattamente opposto di questo ventaglio da un lato abbiamo visto prima il dettaglio di specifici aiuti puntuali ecco all'estremo opposto ricordiamo sempre il contesto della salute l'approccio per così dire filosofico ai ritmi ai valori ai significati della nostra vita di cui avevamo parlato qualche tempo fa nel video sul controllo della salute perché quello è proprio il nostro sistema operativo lo sfondo su cui poi ci succede tutto e che poi determina in modo preponderante fra tutte le altre cose anche la nostra suscettibilità allo stress c'è chi preso dalla fretta di arrivare di tagliare traguardi di avere successo viaggia tutto il tempo della sua esistenza come su un treno direttissimo senza fermate senza che si riesca neppure a vedere nulla dal finestrino perché corre talmente veloce che si vede tutto sfocato e la vita di chi corre si affanna perennemente non si ferma mai rincorre obiettivi uno dopo l'altro vive immerso in ansie e preoccupazioni senza mai fermarsi un momento per godere dell'istante presente e di quello che ha già dedicando poco tempo alle relazioni con le persone che contano di più nella sua vita e solo quando sarà vicino al capolinea si renderà conto che quello che contava davvero della corsa non era la destinazione ma godersi il viaggio e solo allora capirà la scelta di coloro che invece hanno preferito viaggiare su un treno locale che si sono goduti un po' alla vista dal finestrino sono scesi di tanto in tanto a visitare qualche stazione vedere cose imparare godere della bellezza del paesaggio scambiare quattro chiacchiere con le persone che incontravano sul loro cammino e che magari sono arrivati meno lontano ma si sono goduti un po' di più il viaggio ecco credo non ci sia bisogno che vi dica su quale di questi due treni della vita il problema della gestione dello stress diventa assai più facile da risolvere e con questo augurio io mi fermo per oggi prima di salutarci vi annuncio anche l'apertura di una nuova sezione del sito www.spaziosfera.com dedicata allo stress dove nel corso dei prossimi mesi parallelamente agli argomenti trattati nei video verranno messe a disposizione alcune risorse aggiuntive vi segnalo poi anche gli account social e spaziosfera su instagram twitter e facebook e a questo punto c'è ancora una sola cosa da non dimenticare mai che è questa vita quieta mente lieta e moderata dieta tutto chiaro very good